Sprocco e scartocciata in versione outdoor a giugno, Miss Carnevale Pietrasantino 2022-23 confermata a settembre, tutto ospitato negli spazi della Versiliana, a Marina, fra il teatro all'aperto e il caffè. Riparte così, dopo due anni di stop, la macchina del Carnevale a Pietrasanta, grazie allo spirito costruttivo e al grande senso di responsabilità delle nostre contrade, come ha sottolineato l'assessore all'associazionismo e alle tradizioni popolari Andrea Cosci. Ai primi di gennaio era stata accantonata, di comune accordo fra contrade e amministrazione, la possibilità di svolgere corso in maschera e le date di fine gennaio della Kermess Canora al teatro comunale, a causa delle troppe incognite legate all'aumento dei contagi da Covid. E adesso il calendario della manifestazione recupera in sicurezza la sfida di canzonette e scenette con il supporto logistico della Fondazione Versiliana. E come accade a inizio gennaio, per la sofferta decisione di mettere in stand-by le sfilate, anche in questo caso c'è stato il voto unanime delle 12 contrade sul nuovo programma. Dal 16 maggio al 24 giugno il torneo di calcio, dall'8 all'11 giugno al teatro all'aperto della Versiliana lo sprocco e la scartocciata, giorni nei quali il torneo non avrà incontri da disputare. Miss Carnevale sarà invece a inizio settembre. E' il nostro nuovo inizio, ha concluso Cosci, che ha ringraziato le contrade per la condivisione delle scelte in una fase così delicata.